Una serie difficilissima contro Orsinovi, tre partite che poi alla fine sono molto simili anche oggi, 20 minuti ottimi, poi forse Orsinovi che è attrezzatissima, ha avuto la meglio anche a livello di energie contro la Fiorentina. Sì, sapevamo che comunque affrontavamo una delle squadre più forti del campionato, sapevamo che poteva essere una serie veramente difficile e niente, io penso che comunque abbiamo fatto tutto sommato una buona serie, come hai detto te, 20-25 minuti li abbiamo sempre tenuti, siamo sempre stati focalizzati su quello che dovevamo fare e poi è chiaro, comunque arrivi a un certo punto in cui loro avevano 10 giocatori esperti che erano già arrivati comunque a giocare queste partite, se non più in alto e nulla, noi abbiamo sofferto più che altro la loro fisicità e la loro lunghezza di roster, però penso che comunque alla fine noi dobbiamo uscire a testa alta perché abbiamo fatto una grandissima stagione e niente, penso che possiamo soltanto ripensare a questa serie e guardandola comunque con un occhio più positivo che negativo perché comunque siamo stati bravi secondo me. Un'ottima stagione anche per Jack Bloise comunque in questo primo anno a Firenze, cosa ti porti dentro in particolare di questa annata fiorentina anche forse con il rapporto che si è costruito settimana dopo settimana anche con i compagni? Allora è stata sicuramente una stagione in certi punti complicata, allora per quanto riguarda comunque sappiamo benissimo per i vari cambi, cambio di allenatore, cambio di giocatori, niente, è stata a livello di gruppo secondo me siamo stati veramente bravi, veramente bravi, siamo stati uniti, abbiamo avuto periodi non troppo belli, magari per varie sconfitte, però penso che comunque siamo stati bravi comunque ad andare oltre queste difficoltà e niente, per quanto riguarda il gruppo, come ho detto siamo veramente un bellissimo gruppo, abbiamo avuto comunque due giocatori un po' più esperti come potevano essere i due Davide, Rosignoli e Poltroneri che alla fine sono stati delle guide per noi, che io ovviamente mi metto dalla parte dei più giovani, comunque sono contento perché aver avuto la possibilità di giocare un anno, almeno un anno con loro, mi ha sicuramente migliorato sia a livello umano che a livello di gioco, per quanto riguarda la mia stagione è stata una stagione penso abbastanza buona, ma è andata più che altro con l'andamento della squadra, poi chiaramente purtroppo gli infortuni nelle stagioni ci sono e non mi hanno magari permesso di giocare al meglio questi playoff, però alla fine quello che penso è che sia visto anche il grande gruppo, come avevo detto anche dopo guerra 3, che in un momento difficile dove magari i giocatori un po' più esperti, i giocatori che avevano sempre avuto più responsabilità, erano in difficoltà a livello fisico, sono usciti altri giocatori, altri giovani che hanno fatto bene, quindi penso che questo sia stato un po' la fotografia e mi porterò dentro sicuramente il grande gruppo e la grandissima voglia che avevamo di giocare assieme. Grazie a tutti!